Dottore Amantea, possiamo parlare della salute della bocca? Certo, è un argomento molto vasto, ma che possiamo andare a sintetizzare su quelle che sono delle priorità. Nella nostra bocca, che è un organo fondamentale per la masticazione, per l'alimentazione, per la nostra estetica, per la nostra comunicazione, una delle priorità che ultimamente stanno venendo molto alla luce e alla ribalta, purtroppo sono i tumori del cavorale. Nello specifico vorrei parlare un po' di quelle che sono le precancerosi, cioè sono tutte quelle lesioni un po' sospette che possiamo avere a carico del nostro cavorale e che spesso vengono misconosciute o non vengono assolutamente attenzionate dal paziente stesso che a un'attenta valutazione potrebbe accorgersene e segnalarle quindi a uno specialista. Quindi c'è necessità anche per quanto riguarda la salute della bocca di dover fare prevenzione, di dover fare costantemente dei controlli? La prevenzione è un qualcosa che nel mondo di chi si occupa di testa-collo, di cavorale, nel caso specifico mio di chirurgia maxilofacciale, di patologia orale, è una cosa che da sempre ha fatto sì che l'intercettare un qualcosa che è nelle fasi iniziali ci ha consentito di essere vincenti. Tutte le patologie purtroppo neoplastiche ci vedono sconfitti lì dove non siamo riusciti mai a fare una diagnosi precoce, una diagnosi fatta con la giusta tempistica consentendoci di intervenire piuttosto che fare poi delle cure palliative dopo. In tutto questo si può parlare di familiarità? Le precancerosi in realtà hanno una genesi ancora poco conosciuta. Queste sono lesioni del cavorale che hanno forse, probabilmente si ipotizza, una genesi autoimmunitaria, se la vogliamo paragonare a una malattia molto diffusa, la psoriasi, c'è un'autodigestione, un'autoaggressione da parte del sistema immunitario sulle cellule del nostro organismo, nel caso specifico a carico del cavorale. Lì dove però ci sia questa predisposizione, questa condizione favorente, in aggiunta a ciò che sono le condizioni traumatizzanti, per esempio del cavorale, come delle protesi che si muovono, come dei denti scheggiati, fratturati e taglienti, questo si sovrappone a questa predisposizione creando delle situazioni che possono diventare molto a rischio. Se a questo ci aggiungiamo magari il fatto che il paziente, seppur spaventato, non si rivolge a uno specialista, il danno è tanto ed è grave.